La prima traccia di quello che noi chiamiamo fantascienza si può ritrovare nell'epopea di Ghigalmesh, 4.500 anni fa, l'epopea dell'eroa siro-babilonese, il quale prima sconfisse il toro celeste che la deaista aveva mandato sulla terra per vendicarsi di lui, quindi il toro celeste, cioè qualcosa di extraterrestre, e poi attraversò il paese della morte per poter raggiungere gli dèi e trovare la pianta dell'immortalità. Un'altra testimonianza importante, con tutto il rispetto dovuto, la troviamo in questo racconto che dice che Eliseo ed Elia stavano conversando quando un carro di fuoco scese tra di loro con cavalli di fuoco ed Elia vi salì sopra e un turbine di fuoco andò nel cielo. Questo è un passo della Bibbia, del libro dei re. La Bibbia, riparlando del profeta Ezechiele, dice che a un certo punto, guardando il panorama, vede una specie di tempesta che arrivava e in questa tempesta c'erano delle sfere di fuoco che ruotavano dentro altre sfere di fuoco con il rumore della tempesta. Nel famoso papiro Tulli, che il mio carissimo amico Boris Aurodiorum de Rakerwitz aveva tradotto, il faraone Thutmosis III durante una cerimonia vide nel cielo 3-4 sfere rotanti, cerchi di fuoco addirittura. Tutte queste cose praticamente ci parlano degli extraterrestri. Sono molto dibattute, sono molto discutibili, forse non è vero, forse sono errate interpretazioni, ma tuttavia sono quattro testimonianze antiche Thutmosis e 1500 anni prima di Cristo, che non fanno altro che ripeterci come il cielo, il mistero dei cieli ci ha sempre affascinato, ci ha sempre colpito e ci ha sempre costretto a immaginare qualcosa che potevamo vedere nel gioco delle nuvole, delle notti. Questa, secondo me, è l'origine prima della fantascienza. In fondo anche gli dei con le loro imprese, gli dei dell'Olimpo, non sono altro che dei prodotti fantascientifici, possiamo così definirli. In ogni modo, dopo questi antefatti, il primo vero scrittore di fantascienza è Luciano di Samosata, circa 100 d.C. ai tempi di Adriano. Luciano fa un discorso molto serio riguardo alla storiografia e dice che la storiografia deve essere documentata, attenta e obiettiva. Poi scrive un testo straordinario intitolato La storia vera in cui parla addirittura di essere andato sulla Luna e di aver fatto un viaggio spaziale praticamente. Quindi, come vedete, è proprio il meccanismo della fantascienza preciso, cioè una base scientifica e un'invenzione sola. La stessa cosa viene da un personaggio insospettabile che era l'astronomo Cheplero nel 1550-1600 circa, il quale in un'opera sua intitolata Somnium sogna anche lui addirittura di uscire dalla Terra e vedere la Terra dallo spazio. Quindi è una descrizione veramente suggestiva che stupisce soprattutto perché viene da una persona che sta alle basi della scienza empirica. Anche Francesco Bacone nell'utopia della Nuova Atlantide non fa altro che raccontare una storia, una fantasia stupenda in una città che potrebbe essere benissimo una delle descrizioni delle città extraterrestri, riferendosi al mito di Platone nel Crizia, in cui parlava proprio di questo continente scomparso e anche questo potrebbe essere una forma di fantascienza antelittera. Poi non dobbiamo dimenticarci Sirano di Bergerac, il famoso protagonista dell'opera di Rostan, un personaggio storico reale, che scrisse l'imperi della luna e l'imperi del sole raccontando addirittura che con un stranissimo veicolo spaziale dell'ampolle di ruggiata messo intorno alla vita, il protagonista quando il sole attirava, che praticamente non è che attirava la ruggiata, questo lo pensavano loro allora, quando il sole aspirava secondo lui la ruggiata, queste ampolle facevano sollevare il personaggio e lo facciano arrivare fin sulla luna, dove trova addirittura i sireniti. Quindi, come vedete, finché poi non arriva la famosa straordinaria trilogia, che è la trilogia più famosa della fantascienza, Verne, H. G. Wells e Gemsack, che aveva creato il famoso Amazon Story, la prima rivista americana che raccontava di fantascienza, praticamente sono coloro che fanno il capolavoro della fantascienza. Wells è la macchina del tempo, Wells racconta delle storie straordinarie e Gemsack le raccoglie tutte, diffondendo in maniera popolare e totale questa Amazon Story prima del Novecento e Verne, tutti lo conosciamo, 20.000 decresotti mari, Viaggio dalla Terra alla Luna, Isola Misteriosa, Viaggio al centro della Terra, tutto quello che sarà l'immaginario della fantascienza. Non dobbiamo dimenticare Mary Shelley, la moglie del poeta Shelley, la quale a solo 19 anni, nel 1815 credo, scrisse il dottor Frank Stein a 19 anni, che è anche questo molto importante perché inizia qui un altro filione della fantascienza che contiene sempre lo scienziato pazzo, lo scienziato con grande capacità di intelligenza, ma capace di qualunque cosa in nome della scienza, e scrisse anche un altro testo molto importante che è l'ultimo uomo. Lo scrisse durante una quarantena, dovuto a ragioni climatiche perché pioveva sempre e si misero a scrivere dei racconti. Nell'ultimo uomo rimane sulla Terra proprio perché c'è stata un'epidemia di peste. Quindi, io sono leggenda di Matson, praticamente ha un illustre precedente, Mary Shelley, ma in ogni modo adesso arriviamo al cinema, siamo arrivati alla scoperta dei fratelli Lumière e di conseguenza il cinema ne approfitta immediatamente e che cosa fa? Ma con il grande Méliès che era, ricordiamoci, un prestigiatore che rimase fulminato dalle infinite possibilità del cinematografo e dei suoi trucchi, a differenza dei Lumière, non pensò che l'invenzione del cinematografico fosse un'invenzione completamente inutile, come credevano loro, ma che aveva subito la potenzialità del mezzo e quindi fece i primi trucchi facendo apparire e sparire il fotogramma fisso, il passo 1 e quindi fece quel capolavoro straordinario di ingenuità, di poesia e d'incanto che è Viaggio sulla Luna. Ricorderete tutti dove c'è il proiettile che viene lanciato da questo straordinario cannone che arriva fino nell'occhio della Luna. Tutto questo immenso e lungo preambolo serve a dire soltanto che ci sono film assolutamente imprescindibili per la fantascienza. Io la fantascienza la divido in due grandi settori, la fantascienza degli occhi e la fantascienza del cuore. La fantascienza degli occhi è quella piena di effetti speciali, di trucchi straordinari, di soluzioni veramente stupefacenti, tecniche e la fantascienza del cuore è quella invece che ci commuove, che ci turba, è quella che ci dà dei deliri del possibile, dell'irrealtà quotidiana, delle possibilità insperate rispetto al mondo che conosciamo facendoci come slittare da un luogo all'altro, da un'epoca all'altra, creandoci delle suggestioni, degli incanti che non avvengono in un racconto normale e in una storia normale. Proprio per questa ragione la mia scelta dei film che farò e che vi consiglio è una scelta di fantascienza con il cuore, elemento importantissimo. Fantascienza, questo termine che io uso, è un termine tratto da science fiction americana ed è la traduzione che noi dobbiamo a Giorgio Monicelli, il fratello del grande regista Mario Monicelli. Era il fratello maggiore ed era uno straordinario traduttore che oltre ai meriti di aver tradotto Bradbury e di aver tradotto tanti altri testi importanti della fantascienza, fondatore nel 1952 di Urania, la famosa collana della Mondadori, benemerita per la fantascienza e lui coniò questo termine. Fu lui la prima persona ad usare questo termine e quindi gli dobbiamo un doveroso omaggio. Nel 1921 il cinema post offre di nuovo questa possibilità in un film minore che però vi consiglio perché è un film che per la prima volta mette in scena il robot. Questo film si chiama L'uomo meccanico ed era fatto da un attore francese che in Italia conoscevamo con il nome di cretinenti e che cretino non era per niente. Tanto è vero che in questo breve film c'è addirittura il robot buono e il robot cattivo che combattono fra di loro, quindi ancora prima di Asimov e di tutti i drammi sui robot e sugli autonomi, questo può essere il primo esempio di Cyborg in un film. Nel 1929 appare Metropolis di Fritz Lang, quindi come cretinetti aveva anticipato il grande Fritz Lang con la donna meccanica. Capolavoro assoluto da vedere assolutamente. Subito dopo dobbiamo notare un curioso film che in fondo è una favola di fantascienza fatta da Roberto Rossellini, un film molto raro che si chiama La macchina ammazza cattivi ed è un film del 1948 in cui c'è un fotografo che ha una macchina fotografica che uccide le persone. È anche questo perché è una delle caratteristiche della fantascienza. È sempre attraverso un fatto scientifico o attraverso un fatto meccanico che accadono le cose, per cui proprio per questa ragione La macchina ammazza cattivi secondo me è un film di fantascienza italiano vero e proprio. Subito dopo, nel 1953, c'è La guerra dei mondi tratto dal romanzo di H. G. Wells che è quello ripreso dalla famosa trasmissione di Orson Welles in cui aveva detto alla radio che c'era l'arrivo dei marziani, cioè aveva fatto una diretta di questo libro come se stesse avvenendo in quel momento e c'era il panico in America. Subito dopo ci faceva un film ed è un film basilare sull'invasione degli extraterrestri assolutamente da vedere. Nel 1956 c'è un'altra suggestione della fantascienza che è l'invasione degli ultracorpi. Quindi c'è un passaggio dagli extraterrestri che arrivano fisicamente a questi ultracorpi, cioè ai modi che poi li troveremo in aria e in altri modi in cui c'è la possibilità di queste forze extraterrestri di presentarsi in tutti i modi possibili. Quindi cominciano a esserci gli incubi dallo spazio. Un altro film interessante è Radiazione BX, tratto dal racconto di Matheson, 3 mm al giorno, in cui il personaggio per una strana radiazione diventa sempre più piccolo. Quindi Ant-Man è stato già ampiamente bruciato in anticipo da un film del 1957, seguito l'anno dopo dall'originalissimo esperimento del Dottor K, La Mosca. Poi ci sono gli uccelli di Hitchcock che generalmente non viene considerato un film di fantascienza, ma a mio giudizio lo è, perché il mistero per cui questi uccelli, quindi qualcosa di alieno che non sappiamo e non sapremo che cosa, ha turbato questi uccelli costringendole ad attaccare gli esseri umani, è secondo me estremamente interessante ed è una trovata tipicamente fantascientifica. Nel 1965 c'è un nuovo film italiano del grande Mario Bava che è terrore dallo spazio tratto da un racconto di uno scrittore veneziano che è molto importante anche nella sua ingiunità per gli effetti speciali genialmente fatti allora, ma soprattutto perché in realtà poi ha ispirato il famoso alien di Ridley Scott, quindi è un film assolutamente da vedere e da conoscere. come la decima vittima di Areopetri dello stesso anno. Nel 1965 c'è un altro film fondamentale che si chiama Fahrenheit 451 dal racconto di Ray Bradbury. È un film assolutamente straordinario da vedere in tutti i modi perché è alla base della fantascienza del cuore, cioè una fantascienza che ha dimensioni assolutamente diverse e inedite nel nostro immaginario. Come è da vedere assolutamente un film del 1960 che si chiama Viaggio allucinante. Anche questo è un film interessantissimo perché è la storia dell'infinitamente piccolo, cioè un sommergibile viene ridotto in maniera microscopica e viene infilato nelle vene di una persona per poterlo curare da un embolo. Quindi c'è questo viaggio attraverso il corpo umano fatto da questo equipaggio umano dentro un sottomarino. Un film straordinario per invenzione e per idea. Il racconto fu rimaneggiato da Asimov per cui come scienziato e come scrittore era in grado di dare una descrizione di questo fatto. Un altro film estremamente importante alla base di una lunga serie e di un mito è Il pianeta delle scimmie. Il pianeta delle scimmie nella prima versione con uno straordinario Charlton Nelson è assolutamente da vedere proprio perché crea l'archetipo di questo tipo di film che poi ritroveremo tante e tante altre volte con un finale straordinario che non so dirvi ma che all'epoca e ancora oggi colpisce. Nel 1968 è anche l'anno di 2001 di Stare nello spazio. Capolavoro assoluto. So che per molti giovani ascoltatori e spettatori il film sembra lento, ma vi prego di superare questo senso della lentezza dovuto al fatto che siete abituati ai videogiochi e siete abituati alle pubblicità Lampo ma di soffermarvi per favore a seguire questo film perché questo non è soltanto un film, è un libro di testo, è un capolavoro assoluto e quindi è qualcosa che spiega l'origine dell'uomo e che cosa è dentro di noi che ci spinge ad andare oltre l'ignoto, oltre ogni siepe, oltre ogni montagna, oltre ogni mare ed oltre ogni pianeta. Vi prego di vederli. Ho parlato della macchina del tempo di H.G. Wells e dei viaggi nel tempo. A proposito dei viaggi del tempo, posso raccontarvi un aneddoto curioso e particolare. Mi trovavo nelle Marche a fare dei sopralluoghi e mi ero venuto a trovare nel luogo in cui stavo fotografando un'antica abbazia un mio amico che era un giornalista di Repubblica. Al ritorno da questo sopralluogo, in macchina, abbiamo forato e purtroppo la macchina del mio amico non aveva la ruota di scorta, cioè l'aveva mai a sgonfio. Quindi siamo trovati con la notte incombente in una strada secondaria sperduti nel buio e nella notte. Abbiamo visto una luce non lontano e ci siamo diretti verso quella che ci sembrava una casa. Infatti era una casa abbastanza strana perché era sul cielo della strada che proseguiva in una specie di pendio. Abbiamo visto un signore molto distinto, molto raffinato e serissimo. Gli ha detto sì, prego, se volete telefonare, potete telefonare. Dicevamo, potremmo telefonare anche a Rattrezzi che ci venga a prendere. Gli ha detto in realtà, accomodatevi, fa freddo, mettetevi accanto al fuoco, riscaldatevi. L'ambiente era molto particolare perché era pieno di reperti archeologici, frammenti di reperti archeologici, mani, busti, pezzi di colonne, insieme a reperti fossili ammoniti, trilobiti, delle lastre di pietra con sopra delle foglie o delle radici cristallizzate e petrificate. Quindi un ambiente molto strano, molto curioso e affascinante. Poi il fuoco di questo camino animava stranamente questo luogo dandogli l'idea di un gigantesco laboratorio. Il mio amico, proprio per il freddo che aveva preso per cercare di riparare l'auto e per la strada che avevamo fatto a piedi era vestito in maniera molto leggera, continuava a essere utile e aveva come un'influenza che gli stava arrivando. A questo punto questo signore gentile ci ha fatto accomodare in una parte di questo laboratorio dove c'era una vasca e in questa vasca c'era una serie di recipienti, diciamo una diecina di recipienti della stessa dimensione, della stessa misura e con molta cortesia ci ha detto adesso se lei permette cercherò di curarla. Ha tirato fuori una piccolissima ampolla con un liquido in colore e l'ha messo dentro uno di questi contenitori che avrà contenuto 10-20 litri d'acqua, una sola goccia. Questa goccia è caduta nell'acqua e immediatamente si è diluita. Lui allora con un misurino, con una fialetta come le fialette dell'analisi, ha preso una parte di questa acqua praticamente come fossero delle gocce di questa acqua e l'ha versata in un altro contenitore dove c'erano 10-20 litri d'acqua. Ha ripetuto questa operazione per 10 volte. Ogni volta prendeva una delle gocce, quindi diluendo questa goccia in maniera infinitesimale perché ci sono stati 200 litri, una goccia ripetuta per 200 litri ogni volta diluita, diluita, diluita. Poi ha preso con un contagocce due di queste gocce dell'ultimo contenitore e ha pregato il mio amico di tirare fuori la lingua e ne ha messo solo una sulla sua lingua dicendogli che sarebbe bastata e era inutile metterne due. Se voleva essere sicuro, forse poteva mettere due, ma secondo lui erano troppe. Il mio amico con la lingua aperta, con la lingua di fuori, si è fatto mettere questa goccia. Ha deglutito, guardandomi un po' spaventato. Io ho detto che era solo acqua, ho visto che era tutta acqua. A questo punto immediatamente ha avuto una vampa di russore e poi si è sentito meglio, ha fatto un sorriso e ha detto che mi sento benissimo, è una cosa straordinaria. Mi fa molto piacere che lei stia bene. In quel momento hanno salato la porta perché il carroattrezzi era arrivato. Quindi abbiamo salato questo signore e siamo andati via. Prima di uscire, io ho guardato la targhetta sulla porta e su questa targhetta c'era scritto qualcosa come Germania, Germanio, una cosa di cui non ho letto bene. Va bene? In ogni modo, sono andato via e... Però sono rimasto molto incuriosito di questo fatto. Il mio amico è stato benissimo, anzi, mi ha detto poi successivamente se potresti ritrovare quel signore. E proprio per questo siamo andati un giorno, che sono ricapitato dalle sue parti, a cercarlo perché lui l'aveva cercato e l'aveva trovato. Siamo tornati con il mio amico in questo posto, abbiamo ritrovato finalmente questa strada secondaria e abbiamo ritrovato questa casa. La casa c'era, ma ci è venuto aprire un'altra persona e questa persona mi ha detto che quel signore che c'era prima, che si chiamava Santo Germanio, non c'era più, era andato via. Era uno che aveva affittato questa casa per circa un mese perché doveva trovare dei reperti fossili nella zona e anche dei reperti archeologici che andava a scavare per conto suo, non si sa dove, tornava soltanto la sera con questi reperti e poi aveva pagato ed era andato via. La cosa molto curiosa è che quando aveva pagato aveva tirato fuori una serie di monete e gli aveva detto quali preferisce, una serie di banconote di vario tipo, addirittura lui credeva di varie epoche. Ora, siccome quel discorso dell'acqua che ogni volta viene ripresa è qualcosa che non si doveva parlare come la quintessenza ed era una delle procedure alchemiche, con questo nome Santo Germano, mi è rimasta sempre l'impressione che forse questa persona che abbiamo conosciuto fosse il famoso conte di Saint Germain, non ne sono sicuro, può essere che ho sbagliato a leggere, può darsi che questo signore era soltanto un eccentrico che collezionava pezzi archeologici e fossili, può darsi che quest'acqua miracolosa in realtà il mio amico fosse soltanto poco malato. Fatto sta che la storia è molto particolare, molto strana e vi posso assicurare che è autentica. Grazie. 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 Grazie.